probabilmente se ne parlerà per tutta la settimana anche perché il parapiglia scoppiato nel dopo partita all'ingresso delle squadre negli spogliatoi mercoledì diventerà materiale per il giudice sportivo in attesa di probabili multe squalifiche qualche considerazione in casacchieti la squadra di canesi ha giocato una partita di sacrificio al tempo stesso di carattere il vantaggio fulminio irregolare ma comunque frutto di un buon approccio la partita ha forse condizionato un po i piani con l'aquila che ha iniziato subito a spingere molto alla costante ricerca del pareggio e qui il chieti ha avuto il limite di giocare una gara di puro contenimento puntando sulla brillantezza di parlafante uno dei pochi capaci di saltare l'uomo in attesa dei colpi di ardemagni peraltro non ancora in condizione fisica ma comunque capace di mettere in apprezzione la difesa avversaria nel secondo tempo gli innesti davanti alla difesa di di ambo e di sabatino hanno portato ordine anche se la cosa è durata una ventina di minuti perché poi la squadra di epifani anch'essa innervata dai cambi ha ripreso a martellare la difesa del roverde che ha retto grazie alle parate di serra e all'imprecisione dei tiratori aquilani in questo contesto il valore aggiunto del chieti la curva volpi che ha incitato la squadra dal primo al 96esimo minuto da ultimo e non per ultimo le dimissioni di cristian poglio un fulmine a ciel sereno perché arrivate dopo una vittoria ma evidentemente maturate da qualche tempo il presidente onorario del chieti è intervenuto ieri sera la domenica sportiva di rete 8 rivadendo il suo punto di vista i margini per ricucire lo strappo sono molto difficili ma nel calcio mai dire mai caution